Ciao carissimi amici, oggi una diretta dedicata al tema dei missili che gli Stati Uniti d'America manderanno in Ucraina e tanti mi chiedono spiegare perché, come mai, quali sono questi missili, se ci sono qualche notizia di approfondimento e soprattutto anche insomma del perché Ucraina ha bisogno dei missili. Io vorrei partire proprio da qui. Carissimi, Ucraina è un paese che non ha sviluppato una produzione delle armi, una produzione importante. L'esercito ucraino è carente degli armamenti moderni e in grande linee l'esercito ucraino è armato con dei materiali che risalgono ancora ai tempi sovietici. Per cui è un esercito purtroppo abbastanza carente negli armamenti e ovviamente da questo nascono tutte le problematiche che poi questo esercito riscontra nella guerra contro la Russia che, in differenza all'Ucraina, in questi anni non ha mai smesso di produrre nuove tipologie delle armi. Ha delle armi potentissime, addirittura alcune armi che possiede la Russia non hanno gli analoghi nel mondo. Ad esempio ricordiamo i missili come Kenjal che è un missile ipersonico, è un missile che insomma supera la velocità del suono e non può essere abbattuto perché insomma tutto un sistema cambia da solo traiettoria e così via. E poi è molto potente quando lui colpisce l'obiettivo crea dei danni seri. Ecco, Ucraina non può mettere in confronto con la Russia niente di simile. Ucraina ha adesso dei sistemi, due sistemi principalmente missilistici molto largamente applicate nella guerra. Questi sistemi risalgono, come ho detto, ai tempi dell'Unione Sovietica. Uno è il sistema missilistico di razzi non guidati che si chiama GRAT. È una specie di sistema che ci ricorda a tutti quelle famose Katyusha con i quali i sovietici massacravano gli eserciti dei nazifascisti. Insomma, sono sempre missili non guidati, quindi quando vengono lanciati non c'è possibilità poi guidarli nel volo. Una volta lanciati cadono, cadono lì dove finisce la loro traiettoria e quindi la traiettoria viene impostata dalla rampa. La rampa è un meccanismo che viene montato sulla base di solito di una macchina, di un camion. In questo caso di solito usano le vecchie macchine sovietiche di produzione ancora sovietica che si chiamano Ural. In effetti in Ucraina il sistema GRAT è uno dei più ampiamente usati dall'artilleria ucraina contro i russi. Un altro missile sovietico che utilizzano gli ucraini è un missile che si chiama Tocchka-U. È un missile già diverso che viene lanciato... intanto è un missile grande, pesante, che ha un motore e tutto quanto. Viene lanciato da una macchina fatta apposta. Questo missile può raggiungere a una gettata di 120 km al massimo, quindi vola abbastanza lontano. Mentre ad esempio il sistema di cui abbiamo parlato prima, il sistema grad... dipende comunque dipende dalla situazione perché questi sono missili vecchi e patiscono anche le situazioni climatiche. Comunque con tutto l'ambiente al favore di questi missili loro al massimo raggiungono la distanza di 20 km, quindi sono abbastanza obsoleti e sono anche molto pericolosi. perché comunque quando un sistema moderno intercetta la posizione di lancio subito può partire su quella posizione una risposta e se i militari che hanno lanciato i missili non sono stati abbastanza bravi a scappare in fretta, a abbandonare la propria posizione, rischiano veramente di essere eliminati. Quindi il sistema grad è molto obsoleto. Mentre il sistema Toshka U è diverso, comunque anche questo è abbastanza vecchio, si abbatte con facilità perché adesso ci sono i sistemi che intercettano questi missili nel volo, non sono missili veloci. La modernità del missile moderno, la sua differenza dal missile vecchio sta proprio nella tipologia di motore, nella tipologia di combustibile che viene usato per la propulsione e anche la velocità che raggiunge un missile. Per cui un missile che vola veloce e che anche magari ha i sistemi che gli permettono di cambiare la traiettoria nel volo, rende impossibile ai sistemi che intercettano il lancio del missile di calcolare una traiettoria e abbatterlo nel volo. Per questo il missile Toshka U è un missile comunque abbastanza anche questo, obsoleto, si abbatte con facilità. In effetti noi abbiamo visto che le forze, l'esercito ucraino ha usato spesso questo missile per colpire gli obiettivi civili nel Donbass e i miliziani del Donbass, coloro che difendevano Donbass, riuscivano ad abbatterlo utilizzando semplici sistemi antiaeri come Buk ad esempio, che intercettano il missile nel volo, vengono lanciati missili contro il missile che si avanza, esplodono nell'aria, creano nell'aria delle nuvole composte da vari frammenti che colpiscono il missile che vola e così abbattono il missile, il missile cade prima di raggiungere l'obiettivo. Di solito si fa così, fanno così proprio per evitare che il missile colpisca, non so, le città, gli obiettivi civili perché noi abbiamo visto che nella prima fase soprattutto della guerra del Donbass venivano utilizzati ampiamente questi missili dell'esercito ucraino contro la popolazione civile del Donbass. Quindi questi due tipi di missili ha l'esercito ucraino nelle proprie riserve. Ovviamente è chiaro che gli ucraini sono in difetto rispetto all'esercito russo, rispetto agli armamenti che i russi mettono in campo e qui arrivano gli americani che giustamente dicono noi vi aiuteremo, vi forniremo dei sistemi più moderni, sistemi che vi permetteranno di almeno pareggiare le forze con i russi. Quindi perché si è creato un po' di questo attrito, scandalo per questa decisione di americani di mandare i missili a Mars M142? Adesso vi spiego in maniera, cercherò di essere in maniera semplice perché non è una questione proprio semplice. Allora i missili a Mars M142, tra l'altro la cosa bella è che un sistema missilistico di questo genere, solo un sistema, quindi la macchina con la rampa di lancio e anche i missili da lanciare, tutto il completo costa 5 milioni e 600 mila dollari, quindi sono costosissimi. E americani per ora hanno detto che daranno agli ucraini quattro di questi sistemi, per ora sono quattro, sono pochissimi, e li utilizzeranno per addestrare, per far sì che gli ucraini imparino ad utilizzare questi missili nell'ambiente operativo. Cosa sono i missili a Mars M142? Intanto non sono i missili, sono sistemi di lancio, nelle quali possono essere caricati diversi missili. E si caricano missili non guidati, missili che raggiungeranno al massimo 70-80 km, sono diversi tipi di missili che possono essere caricati, missili non guidati che possono essere caricati in questi sistemi, sono anche i missili che all'interno hanno i sistemi di bombe a grappolo ad esempio. Però questo sistema ha la possibilità di lanciare anche un missile balistico tattico che si chiama MGM-168 o ATTAC-EMS, se voi andate a vedere in internet ci sono delle descrizioni, anche video di questi missili qua. Questo è un missile balistico tattico che può essere caricato con diversi tipi di testate, comunque volendo si può montare anche una tattica testata nucleare, questo lo diciamo così, giusto per essere trasparenti con il pubblico, e questo missile può volare fino a 300 km. E quindi qual è stata la preoccupazione del mondo, anche un po' degli americani e molto dei russi, è che fornendo questi sistemi missilistici, gli americani forniscono agli ucraini un sistema di lancio con il quale di fatto loro possono tranquillamente colpire gli obiettivi sul territorio russo. Uno scenario del genere cosa comporterà? Una risposta adeguata da parte della Russia, quindi cominceranno a volare i missili balistici, e se cominceranno a volare i missili balistici sui territori e sugli obiettivi civili, questo sarebbe una fine di tutto, perché quando sulla testa a voi ricade un missile balistico di quel tipo, poi soprattutto con testate che ci sono oggi, la Russia possiede delle testate che non sono nucleari, ma riescono a raggiungere più o meno la potenza di un ordigno nucleare tattico in base alla distruzione che provoca, ad esempio sono i missili termobarici, che sono testate termobarici, bombe termobariche, che sono molto distruttivi. Se su Ucraina cominciano a volare queste robe qua, sicuramente siamo di fronte all'ulteriore peggioramento della guerra, quindi non ci sarà più questa guerra dove un po', sai, sapete, certe città non si bombardano, magari cercano di operare dove possono con forze di terra, no, si tratterà ormai di una guerra di missili, solo missili, quando volano missili significa terra bruciata, significa non c'è più spazio per la vita, per la sopravvivenza, non c'è più spazio per i corridoi umanitari e così via, bruceranno tutto. E quindi ovviamente c'è questa tensione perché i russi dicono, ma se li mandate questi sistemi balistici che potranno raggiungere la Russia, le città della Russia, noi a questo punto saremo pronti anche a colpire l'Ucraina con dei missili tali che, insomma, distruggeremo veramente tutto. E quindi si tratta, cari amici, di una cosa molto preoccupante. Poi, allora, americani per adesso hanno detto, sì, vabbè, li diamo quattro, vediamo come ucraini li usano, se sono bravi ad applicarli, se c'è senso di utilizzare questi sistemi in questa guerra, e se, insomma, senso c'è, noi entro qualche mese potremo anche fornire fino a 40 sistemi di lancio IRMAS M142. Quali sono gli analoghi russi? I russi hanno gli analoghi a questi missili IRMAS, a questi sistemi di lancio, perdonatemi, IRMAS, che sono sistemi che lanciano missili smerche e tornado. Sono due tipi di missili che raggiungono anche questi 70-80 km, poi tutto sempre dipende dalle condizioni atmosferiche, ma in grande linea più o meno lo gettato è questa. Sono missili distruttivi, sono missili molto pericolosi, sono missili che quando cadono in un centro abitato causano distruzione e morte, purtroppo, e vengono utilizzati soprattutto contro i raggruppamenti dei blindati, dei carri armati e così via, perché riescono a distruggere anche la tecnica, quindi da un tipo di missile del genere non vi salva, ad esempio, il blindato o il carro armato, perché se vi prende, vi prende, se si brucia vivi tutti dentro. E quindi i russi avranno, sei americani, manderanno questi 40 macchine, che comunque sono poche, e io sono anche sicuro che i servizi segreti russi faranno di tutto per, soprattutto servizi segreti militari, la GRU, lì c'è la gente che lavora, comunque non bisogna pensare che lì ci sono le persone con denti storti, bottiglie di vodka in una mano, Kalashnikov nell'altro, e il cappello sovietico sulla testa. Ci sono comunque i sistemi che fanno la guerra, sistemi moderni, organizzazioni moderne, e ci sono servizi che lavorano anche bene, e quindi quando questi cominceranno a tirar fuori l'informazione di dove si trovano queste macchine, questi sistemi di lancio, allora utilizzeranno sicuramente l'intelligence per scoprire i luoghi e per colpire questi luoghi. Noi abbiamo visto, hanno fatto già una cosa dimostrativa quando i russi hanno colpito il campo di addestramento della legione straniera in Ucraina, così a molti stranieri che sono venuti in Ucraina a combattere è passato la voglia di farlo, li abbiamo visti poi tornare indietro a Polonia a teste basse. La stessa cosa potrebbe accadere anche quando gli americani manderanno questi sistemi di lancio missilistico. Poi due parole su quello che ha detto Zelensky di recente, il presidente Zelensky, presidente ucraino, ha ringraziato gli Stati Uniti d'America, lui ha ringraziato, tanti dicono che ha ringraziato perché sono arrivati i sistemi, no, lui ha ringraziato in realtà non perché i sistemi sono già arrivati, ma lui ha ringraziato gli americani semplicemente perché loro hanno detto che manderanno questi sistemi, però ci vuole ancora un po' di tempo, questi sistemi devono ancora arrivare, poi ci vorranno almeno, come hanno detto, tre settimane per addestrare gli ucraini e poi quando arriveranno proprio qua 40 sistemi, penso che non sarà prima di un mese o due mesi, penso che li rimanderanno verso fine estate e così. Intanto, giusto per concludere questa tematica, per chiudere questo nostro video, vi vorrei ricordare un po' di situazioni legate al fornimento degli armamenti perché è veramente curioso e importante sapere come oggi in una guerra moderna come si comportano vari paesi. Intanto Ucraina ha ricevuto gli aiuti dalla Germania, Germania ha detto, i Scholz ha detto, che fornirà all'Ucraina complessi antieri moderni Iris TSL. Questa è una roba veramente seria, sono i complessi antieri funzionali, moderni, non sono all'altezza dei complessi missilistici antieri che hanno i russi come Buk, però, chi se ne frega, riescono a battere gli aerei. Quindi se sistemi del genere vengono posizionati in un certo numero, in maniera intelligente, strategicamente utile, attorno alle grandi città, si può escludere che gli aerei russi riescono a fare delle operazioni sopra le città ucraine, quindi per gli ucraini questa notizia è buona perché riusciranno a difendere le proprie città dalle incursioni di aerei russi, che comunque non sono proprio in realtà così frequenti, ma ci sono perché aerei russi colpiscono gli obiettivi, soprattutto militari, la terra, ma anche capita che colpiscono gli obiettivi civili, come abbiamo visto, e sicuramente gli ucraini questi sistemi faranno comodo. Però è una cosa interessante perché i tedeschi non fanno un protocollo particolare secondo il quale Germania fornisce all'Ucraina come Stato questi sistemi. I tedeschi hanno fatto sì che l'Ucraina fa un accordo con l'azienda, direttamente con l'azienda che produce questi sistemi. Per cui la Germania fa un po' in questo senso fa un gioco strano, cioè regala o vende agli ucraini questi sistemi sotto banco, fornisce questi sistemi in maniera non ufficiale, perché non è stato la Germania che fa questo gesto, ma l'azienda che produce queste cose. Anche un altro fatto curioso, che i tedeschi si sono messi d'accordo con i greci, e quindi i tedeschi ai greci venderanno a un prezzo ridotto una quantità dei blindati nuovi, dei blindati militari, blindati leggeri con le ruote, e in cambio la Grecia fornisce agli ucraini i vecchi sovietici blindati che aveva la Grecia ancora dalla fine degli anni 70, che si chiamano i BMP-1. Quindi sono vecchissimi, veramente obsoleti, però sono macchine comunque da guerra, insomma uno che entra nella ragione di chi deve difendersi adesso, che entra nella ragione dell'Ucraina, gli dice vabbè, anche un regalo così comunque va bene, è sempre utile per la guerra, è meglio che andare a piedi, è meglio che andare con una macchina civile, almeno si carica dentro un blindato vecchio, consuma tanto, ha le armi, è armato con delle armi abbastanza vecchie, però comunque è sempre una macchina da guerra, e i greci hanno fatto già questo accordo con i tedeschi, quindi immaginate che giro di affari si fa attorno a questa guerra, nell'ambito degli armamenti, le aziende tedesche si mettono d'accordo con i greci, quindi li forniscono blindati moderni, e i greci forniranno i loro blindati vecchi, agli ucraini, e con questo guadagnano sconto da parte dei tedeschi, è allucinante. E poi è una questione divertente anche attorno ai mortai che i bulgari, la Bulgaria fornisce all'Ucraina, i vecchi mortai sovietici, sono mortai da 85, da 120 mm, forniscono non solo mortai, forniscono soprattutto le munizioni per i mortai, ovvero i colpi, e sono tipici perché sono di colore azzurro, e quindi i bulgari fanno questa cosa, sempre in accordo con i tedeschi, e in cambio i tedeschi ai bulgari hanno promesso di fornire alcuni armamenti moderni. Quindi immaginate che giro di business si fa anche lì. Quindi i paesi dell'ex blocco sovietico, intanto si disfano dal materiale vecchio sovietico, che è rimasto nelle loro armerie, nei loro magazzini, e in cambio riceveranno gli armamenti moderni, ovviamente pagheranno, ma pagheranno con un certo sconto, perché hanno partecipato a questa azione, a questo fornimento delle armi all'Ucraina. Per concludere, un'altra cosa importantissima, adesso il congresso, proprio in questi giorni, il congresso statunitense, decide se dare il via libera al permesso di fornire all'Ucraina i droni. I droni che sono Gray Eagle, sono droni americani, sono droni abbastanza seri, che portano armamenti seri, che sono multifunzionali, sono le armi pericolosi, le armi potentissime, moderni armi di guerra. Ecco, gli americani hanno già detto che forniranno questi droni all'Ucraina, l'unica cosa che per adesso aspettano americani e il resoconto che arriva dal congresso, perché il congresso deve dire sì, no, se dice di no deve dire perché, sicuramente loro comunque in qualche maniera cercheranno di qualche, anche se il congresso dirà di no, loro in qualche maniera piazzeranno, anche attraverso un terzo paese, in qualche modo piazzeranno questi droni, perché abbiamo già capito che loro vogliono farlo e quindi quando americani vogliono fornire un tipo di arma lo fanno anche andando contro le leggi internazionali, contro le loro leggi, le loro regole americane. Con questo sul tema di fornitura dell'erroamento a Ucraina è tutto, se siete interessati scrivetemi, fatemi le vostre domande, io con attenzione leggerò i vostri ragionamenti, conclusioni, io vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, al mio canale Facebook, al mio canale Instagram, quando vi iscrivete su YouTube mettete il campanellino così vi arriva anche la notifica quando carico un nuovo video, mettete i vostri like, scrivetemi nei commenti cosa pensate e vi auguro ogni bene, vi mando un forte abbraccio e in uno dei prossimi video io parlerò della Transnistria.